Sono all'oncologico per una visita dermatologica, avevo la vista alle 9, fino alle 9, dalle 8 del mattino, alle 9 eravamo fuori per il cleanage, tutti all'esterno, prima di me c'erano 100 persone e potevano fare qualsiasi cosa, tutti insieme, è stato un vero problema, ho passato i litigi, lo gigamante, con i fermieri, urla, ma nulla è cambiato. Sono salito in reparto alle 9 e mezza, quindi mezz'ora dopo la visita, ed ora saremo in reparto, è vuoto, non c'è nessuno, è la tenda di essere, è la tenda.